Una petizione per riaprire l'anfiteatro di Arezzo, firme che saranno poi consegnate al neoministro della cultura Alessandro Giuli, ospite della rassegna Altiscaffali. L'iniziativa è del gruppo consigliare Scelguarezzo e si svolgerà davanti alle entrate di via Margaritone e via Crispi dalle 10 alle 12 di sabato 14 settembre. Un'iniziativa importante spiegano i consiglieri Donati e Sileno per restituire agli aretini un angolo di città dall'incredibile valore storico che da troppo tempo non è possibile frequentare e sulla quale vogliamo coinvolgere il ministro Giuli. Il suo appuntamento del 21 settembre in fortezza ad Arezzo è oggi confermato ma se dovesse saltare faremo in modo di consegnare ugualmente le firme perché la città non può aspettare oltre. Sono infatti ormai chiusi per lavori di manutenzione straordinari alle alberature dopo un crollo da oltre un anno i cancelli dei giardini dell'anfiteatro. Restano adatta da destinarsi la riapertura del parco dal lato dell'archeologico che si affaccia su via Margaritone che quella che si apre su via Crispi.